La stagione turistica di Gabicce Mare, così come per tutte le città della costa, sta per giungere al termine. Iniziano dunque ad emergere i primi bilanci da parte degli addetti al settore e dell'amministrazione, che giudicano i mesi estivi in positivo, nonostante il problema delle mucillagini. Tanti infatti turisti ospitati dal comune di Gabicce, così come elevato, è stato il numero dei presenti e partecipanti alle attività e agli eventi proposti durante l'estate. Al momento la stagione è molto positiva, i dati sono in linea con l'anno scorso, quindi giugno-luglio al momento bene e agosto vediamo il prossimo mese con i dati che riceveremo. Sicuramente le condizioni, anche il problema di mucillagini non ha aiutato, però i nostri turisti sono riusciti a trovare strade alternative, utilizzare il parco, visitare i paesi circostanti, Gradara, San Marino, quindi parlando anche con le associazioni hanno trovato strade alternative e sono comunque stati contenti di venire da noi in vacanza a Gabicce. La partecipazione è molto presente, tutti gli eventi che abbiamo organizzato, sia le serate in piazza al sabato, sia la notte delle candele, tutti gli eventi organizzati dai ragazzi giovani della consulta sono sempre state partecipate e quindi vuol dire che è un segnale sia per gli abitanti del posto, sia per i turisti che la nostra programmazione funziona e continueremo su questa strada.